questa volta agatha e larry sono alle prese niente meno che con un caso di omicidio un importante diplomatico russo è stato ucciso proprio in cima alla tour eiffel i due cugini si mettono subito sulle tracce dell'assassino hanno un solo indizio le ultime parole della vittima rosa rossa basterà la come di agatha per trovare il colpevole in una grande metropoli come parigi